Ciao Antonio, cosa ci puoi raccontare? Un weekend un po' più positivo diciamo, abbiamo fatto il massimo, oggi comunque anche il passo della macchina non era abbastanza buono, anche guardando un po' Sergio, quindi dalla mia parte diciamo più contento, però ovviamente ancora lontano da essere super competitivi. Mi dicevi che ti poteva aiutare a conoscere il circuito, ti ha aiutato in qualche modo o no? Sì sicuramente, il fatto anche perché è stato solo tutto in un giorno e senza domani, senza cara 2 è sicuramente aiutato tantissimo, però questo è stato l'unico, adesso Berlino, due circuiti in due giorni, quindi sarà ancora più difficile, però vediamo. Ciao!